Ciao amici di TGM, siamo a Colonia alla Gamescom 2016 e devo dire in questo momento di invidiare tantissimo il nostro Davide Mancini perché oggi sei bello e anche perché oggi hai potuto vedere Prey che fin dalla presentazione alle 3 di Los Angeles nell'evento di Bethesda a me era sembrata una figata fantascientifica pazzesca e mi sembra che questa cosa si confermi. Ebbene sì, ebbene sì caro Marietto, è il gioco per te, io ti dico che è il gioco per te, poi se manterrà le promesse o meno è tutto da vedere perché è un gioco che uscirà nel 2017, però è un gioco che ha tutti quegli elementi che a te suzzicano l'immaginario dal lettore vorace di fantascienza perché di basse è un gioco in prima persona ma non è uno sparatutto, anzi è uno sparatutto atipico possiamo dire perché le dinamiche di sparachino ce li ha perché gli alieni sono brutti e cattivi e hanno invaso questa stazione spaziale Alieni alquanto strani Sì sì, adesso ci arriviamo perché questa piattaforma spaziale dalla Talos One dove Morgan Yu è il custodito perché hanno fatto gli esperimenti, lui ha questo DNA mixato con quello di queste entità aliene e ha dei poteri fantastici, tipo si può trasformare, può plasmare il proprio DNA e diventare un oggetto inanimato Senti qualcosa dei Bioshock ce l'hai visto? Ecco, questo ha il ritmo del primo Bioshock, quella cadenza un po' lenta che usa le dinamiche di sparatutto solo quando necessario e appunto si focalizza sull'uso dei poteri, quindi mi trasformo in una tassa per passare dall'altro lato della stanza dove c'è un buco nella rete oppure divento una sfera perché c'è una sfera a terra quindi prendo la sua forma poi sfrutto il blast e salto dall'altro lato, insomma c'è tutta un'idea di reazione a catena grazie all'uso dei poteri poi c'è anche l'uso della tecnologia che è molto interessante perché c'è questa tipo plasma gun che spara un materiale plastico con cui puoi o costruire delle passerelle e quindi raggiungere posti inesplorati oppure tipo spararlo addosso ai nemici che diventano delle statue che poi puoi far esplodere oppure puoi cristallizzare insomma è molto elaborato, è come se fosse un incrocio tra Alien Isolation e questo ti dico perché tra poco un portal molto più sparacchino e appunto quel Bioshock o The Darkness, perché The Darkness e Alien Isolation? perché ci sono queste entità che appunto hanno questo potere del Mimic che sono fatte quasi di oscurità e non si sa da dove vengono sono quelle che insomma i nostri amici lettori potrebbero aver visto nel trial esattamente e quindi che ricordano un po' quelle di The Darkness e il fatto che queste sono estremamente potenti perché va bene quelle piccoline che si sparano però ci sono quelle grosse che sono dei veri e propri incubi che ti danno la caccia e lì devi solo scappare quindi entra in gioco una dinamica survival e tutto ciò è strutturato in una sorta di meta RPG alla sorta tipo Deus Ex in cui c'è il crafting c'è tutta una serie di gestioni dell'inventario, insomma è un gioco che sembra molto ricco e strutturato e molto bello anche tecnicamente perché sembra già abbastanza avanti Entità Liena che è tutto e niente, che prende forma, insomma riferimenti abbastanza palesi alla fantescenza alta e mi dicevi anche che dal punto, ricordiamo che insomma gli sviluppatori sono Arkane Studios quindi non dico una garanzia però insomma c'è da ben sperare anche per questo motivo e mi parlavi piuttosto bene anche dello stile grafico Sì appunto dicevo tecnicamente molto avanti, molto pulito e l'idea è che secondo me la possibilità di avere una sorta di open world ma in una struttura molto piccola cioè relativamente piccola quanto una stazione spaziale puoi andare ovunque, puoi uscire fuori e quindi andare a gravità zero insomma lo rende piccolo ma grande quindi è possibile curare tutti i dettagli un gioco che sembra interessante e diciamo che non vedo l'ora di provarlo tutto sta poi in come tutte le componenti verranno bilanciate perché sulla carta è tutto molto figo ovviamente la scrittura dovrà dare un collante generale poi le varie dinamiche non dovrebbero essere fine a se stesse E io mi fido e non voglio pensare di non potermi fidare assolutamente E fai bene Mario, fai bene Insomma diciamo che Prei ci ha come avete sentito stuzzicato ma tantissimo e per il momento e fino alla prossima volta diciamo che possiamo finirla anche qui anche perché vedete che insomma, vabbè, ciao! Grazie Grazie Grazie